Due rapinatori sono stati arrestati poco fa dalla squadra mobile e dalla sezione volanti della questura di Brindisi dopo aver tentato di rapinare il titolare di questa gioielleria, la Giove Gioielli, siamo in Viale, Aldo Moro, due banditi armati di coltello e mascherati hanno fatto irruzione in questa piccola gioielleria, hanno chiesto al titolare di consegnare loro gli oggetti preziosi, c'è stata una reazione da parte del titolare, ne è nata una colluttazione durante la quale i banditi hanno preferito darsi alla fuga ma sono rimasti bloccati all'interno della porta richiudibile che si trova all'ingresso della gioielleria, sono arrivati i poliziotti, quelli della squadra mobile e della sezione volanti che hanno provveduto a catturarli e a portarli in questo momento negli uffici della questura di Brindisi.